Buongiorno e benvenuti al progetto WOW da San Felice del Molite, lei è Dina Busic ed è la nostra partner di Zara, la città che è con San Felice del Molite partecipa al town twinning WOW, World Originated World. Grazie di essere qua, puoi parlare in inglese o in italiano. La prima domanda è, perché hai accettato questo progetto? Perché nella città di Zara siamo molto attivi nel campo della cultura, la città è partecipata in molti progetti europei e, ovviamente, è stato interessante per me, perché sono Arbanese, da Zara, di collegare i Molesi di Italia con Arbanese. Quindi, la maggior parte delle persone che vengono da Arbanese, hanno una bella tradizione, una bella tradizione, una bella tradizione, una bella tradizione, una bella tradizione che devono mantenere, nel corso 20 anni, molto, molto rapidamente. Quindi, portando a tutti questi persone qui, 3 grandi bassi, un po' delle persone che vogliono preservare la cultura, ma è difficile oggi, dobbiamo accettare. E' stato molto semplice per la città di Zadar, per me personalmente, e sono molto felice che siamo qui e che tutto va bene e molto bene. E anche noi siamo contenti di avervi. Le persone che stanno lavorando, poi vedrete le foto, sono molto molto coinvolte e questo è molto bello. E noi siamo molto felici, anche perché il comune di San Felice conta 400 abitanti ed è a rischio spopolamento. Qui a San Felice c'è una comunità croato molisana, ma nel Molise ci sono gli airbrush e abbiamo invitato anche una comunità occitana dalla Calabria che poi vi faremo conoscere. Reservare la lingua è fondamentale. Secondo te, qual è il modo migliore per preservare la tradizione urbanese o anche le altre tradizioni in un'Europa sempre più globalizzata? E in un'inglese sempre più presente? Ok, come si? Sì, come penso che io sono anche lavorando nel campo dell'arte, sono un musicista e ho fatto un progetto, un CD, un recordo, un CD di Arbanese musica, ho esperto qui molto molto direttamente. Quindi è molto importante essere collegati, essere insieme, lavorare su progetti locali, essere inclusi e non esqueci di chi sei. Quindi per tutte queste persone, ci sono un gruppo molto specifico di persone che venivano da Albania 300 anni fa, considerano i loro croati, ma sono molto orgogliosi del suo carattere albanico. Quindi sono in una posizione che è molto, molto difficile, la maggior parte di loro non conoscono Arbareš. La maggior parte di loro non conoscono le cani, per esempio, che ho registrato 20 anni fa. E' un momento di collegare e lavorare insieme. Arbareši persone sono molto, molto energetiche, sono sempre sempre felici e optimisti. e che vogliono farlo. E' molto vero che stiamo perdendo, tra l'anno, molte delle nostre tradizioni. Quindi, per esempio, sul volto, sul ferro, a Lancona. abbiamo deciso di fare un workshop di cani di Arbareš. Ah, sì. Musica. Musica è un linguaggio internazionale, ovviamente. Quindi, questo è un passo. E chi sa, cosa succede dopo questo workshop che hai preparato? Noi siamo tutti optimisti. E credo che questo lavoro di cani di cani abbia qualche modo di nuova e strana per preservare il linguaggio. perché abbiamo un'altra tavola con i ragazzi all'altra parte del bambino. E i ragazzi sempre ci sorprendono. Quindi, grazie a Dina. Ci vediamo dopo. I lavori continuano. Nel pomeriggio ci saranno gli scambi culturali. E vedremo le danze, vedremo i canti. e domani vi sapremo dire che cosa è emerso dai tavoli di lavoro. Grazie a tutti.